Sabato a Roseto torna l'appuntamento il 34esimo con Sport per la vita, il gran galà internazionale di pattinaggio artistico. Sport per la vita rappresenta il testamento spirituale della sua ideatrice Licia Giunco, sensibile insegnante e dirigente sportiva che negli anni ha saputo dare vita a un progetto che ha toccato i cuori di migliaia di persone. Ci sono atleti veramente di spessore internazionale in questa manifestazione? Sì, tutti i campioni del mondo in carica del pattinaggio artistico e delle varie specialità, quindi singolo femminile, maschile, coppie danza, coppie artistica, solo dance, poi gruppi coreografici provenienti da più parti d'Italia, nonché una parata di apertura con 14 società, tutte le società d'Abruzzo quasi, che hanno aderito a questa iniziativa. Ad ogni edizione la manifestazione abbraccia le finalità di un'associazione o di un progetto da sostenere. Quest'anno il connubio è con il centro regionale di fibrosi cistica dell'ospedale di Atri e poi con l'unità alzi per la sezione abruzzese. È una manifestazione che ci porta parecchio visibilità e anche un rientro economico non indifferente che noi utilizziamo sistematicamente per il centro o per acquisire macchinari o per formazione professionale del personale che è lì dentro, cercando di alzare la qualità del centro stesso, del centro regionale di fibrosi cistica. Quali sono le attività del centro? Si svolgono tutte le attività sia di screening, ovviamente inviando le provette nei laboratori specializzati e quindi di seguire tutto il percorso di un malato di fibrosi cistica per agevolargli, ripeto, la vita normale per portarlo il più possibile a una normalità nella sua attività perché la malattia è abbastanza pesante da un punto di vista anche fisico. Abbiamo quasi il 60% di pazienti adulti sui 110 che si sono seguiti presso il centro e questo è un dato importante perché fino a 20 anni fa c'era un'aspettativa di vita che si aggiravano sui 15 anni, quindi c'è un grosso passo avanti con la ricerca e questi soldi possono essere destinati sia in quell'attività che in un'attività di ricerca.